Salve, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vedrete come si è comportata la fata mentre io ero la fata, scusate. Qui c'è una fata, ma c'è un'altra fata dietro il telefonino. I'm behind the scenes today. Come si è comportata mentre io ero in Australia, perché lei è stata più di una settimana da sola con la macchina, non sapendo praticamente niente di auto elettriche. Vediamo se è così difficile, come se l'è cavata e ha girato da sola delle immagini, quindi questa volta ho avuto anche un aiuto alle riprese, perché alle riprese abbiamo l'altra fata, dopo la sigla. Allora, le immagini che mi ha lasciato sono per prima cosa di quando è andata a caricare al supercharger. Da sola, autonomamente, si è impostata il supercharger come destinazione e è andata al supercharger di Arezzo a ricaricare. Vediamo le sue considerazioni e i suoi commenti mentre fai i video. C'eri anche te dentro con uno dei quei video. Sì, penso di averti chiamato con FaceTime durante la ricarica. Vediamo le immagini. Che ci tocca fare? I made it, guys. I'm on my way, recharging the car. Ai, ai, ai. Ci sono dei lavori, però. Tutto a posto. Ah, ecco, ecco, ci siamo, ci siamo. Eccoci. I am officially recharging the car at a Tesla station. I think, but Carlo already programmed it at 75% because I didn't touch anything here. He probably did it from where he is right now. Oh, that's probably him. Let's see. Hi. Ce l'hai fatta? Yeah. You're on video. Ah, ok. You see, I thought, did you just put the, did you put the limit at 75? Sì, era a 75, dove è troppo più alto lo sporti. Sì, se vuoi tanto che sai di sì, come vuoi. Where's the time that it takes? In alto a sinistro. Ah, ok, 16 minutes, that's good. How do I put it at 85? C'è il disegnere della macchina, da qualche parte c'è una freccia. Ah, ah, here. Devo pisciare quella freccia e va più a destra. C'è un posto da qui, vai. Vai, that's a good idea. Then when you come home, you'll explain it to me. Better. Ok. Put it at 85. And then you'll call me to see how to stop everything. Bye. No, si ferma l'assisto. Ok, bye. Ok, bye. Oh, ok, bye. It's a bit heavier here. Bye. And as per miracle, it's now the limit at 85% and I didn't do anything. The car just read my mind. It has crazy capabilities. And it's a full house because two just left. Others just came and I think I didn't park really well. But for the first time, I'd say it's a go-go. Well, look at that. It even tells me that I've almost completed my charging limit, which was posted at 85%. How cool. There it is. Sbloccare sportello. Let's go try it out. Hopefully I can manage to do this and it isn't hard. As I'm using it for the first time, you told me to press on this really hard. Oh, that's so easy. Got it. And I did it. I can do it. Off we go, Carlos. See you next week. Going on holidays. Bye. Poi una volta ha avuto anche la necessità di caricare a casa, che in realtà è la cosa più comune che si dovrebbe fare. E quindi vediamo come ha gestito la carica casalinga. Manuela, anche qui si è fatta delle immagini. Alle riprese, la fata. Prego. Ok guys, I never thought I'd be doing this and having to admit that sometimes Carlo is right. So it's the first time he's left for so many days and this is the car we have right now. No others. So I got to take it all the time and I felt like so nervous. Like how am I going to do this? How am I going to be able to recharge this car? I have to admit, if you have the charger at home, like we do, it's really, really easy. If you don't have one at home, it ain't so easy to have an electric car. So now it's time to recharge it. It needs to be at least 75 all the time. So right now it's at about 60. So I'm going to get ready to recharge it. It's quite easy. Once you learn, it's really simple. Sorry. Let me show you guys. I put the car two back. Usually the car must be in front. Here we go. Can you see me? Oh yeah, it's purple. Can you just snap it in? As simple as that. I think it's working. Oh yeah, it's 56%. He wants that 75, but he programmed it as always, right? Yeah. Ain't touching it. It's going to take a few hours and maybe the electricity may go out, but I'll let you know. But it's really simple. I have to admit, but there are some downfalls. We'll talk about it with him. And here we are, the day after. All went well because the electricity didn't go off. So that's a good thing. Oh no, it's not going to work guys. I just forgot my mobile. That's the problem with this. It doesn't come off if you don't have your phone. Now we've got to go back in. Get the mobile and start this again. Ah, got my mobile guys. Got it, got it, got it. Here we go. So he told me, keep your fingers safe and then pull. Pull, pull. We got it. I got it, I got it, I got it. And we put it back here. Oh guys, I can't do two things with one hand. Two hands. Here it is. Going and put it back guys. It was quite easy. Conclusion. Che cosa possiamo dire? Prima di tutto facciamo un applauso alla Fata perché è stata veramente brava. Se l'ha cavata egregiamente da sola. E poi ha dimostrato molto bene come anche una persona da sola, un po' inesperta, diciamo, se l'ha cavata benissimo con un'auto elettrica perché non è così difficile da imparare. Se avete domande ovviamente potete farmele nei commenti, però credo che sia abbastanza evidente di come è semplice la ricarica di una macchina che alla fine non è così diversa dalla ricarica di un telefonino che tutti voi avete. Uno ogni tanto quando la batteria è bassa, lo mette a caricare magari la notte così non lo deve usare o cose del genere. Cos'altro aggiungere? Senza offesa, se ce l'ha fatta lei ce la può fare chiunque. Excuse me, I'm a Fata. I have special powers. I can do anything. Riesce anche a caricare l'auto elettrica, benissimo. E se avete domande, io vi ringrazio per aver guardato. Spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile o almeno vi abbia intrattenuto per qualche minuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti